Bene amiche, amici, continuiamo. Parlo agli amici, poi ovviamente so benissimo di essere seguita soprattutto dai nemici, dalle nemiche, perché è una questione di interesse di qua e di là, non dalla mia parte. La mia parte l'interesse qual è? Di fare chiarezza, di pretendere chiarezza, di stoppare certi atteggiamenti, sì basta, basta non se ne può proprio più, non se ne deve proprio avere più di questa roba, di questi, ma che lavoro eh? Allora, parliamo di aziende, torniamo qua. Ho trovato il quinto che voleva ballare da Ligalli sotto lo stesso medesimo nome, eh però poi c'era il B, ah beh lì il B, ringraziate la sottoscritta che a un certo punto è arrivato anche il B, eh beh, e poi se ne parlerà. Nelle sedie opportune se ne parlerà di tante cose, perché c'è chi gli sta bene la qualunque e usasse qualsiasi cosa, ma perché va bene a chi sta e a chillo un qualcosa che può avere qualsiasi nome, può essere composto da qualsiasi cosa, non vuol dire che sia giusto che venga venduto in quella maniera. Ci siamo? Perché se noi sosteniamo certe nebulosità, certe ambiguità, certe falsità, mostriamo il fianco, alla fine ci umiliamo sinceramente, da soli nel nostro picco, ma chi se ne frega? Ma tutti devono fare quello che vogliono, che desiderano con i filati, ma non possiamo sostenere un messaggio di questo genere, che va tutto bene, non sta andando bene proprio niente, già questo tormentone andrà tutto bene, no non sta andando bene. Perché se noi ci troviamo personaggi che mettono sul commercio, al di là del papocchio, ma quale azienda mette sotto lo stesso nome filati che hanno caratteristiche così diverse, non guardate il bianco dietro, guardate questi, no? Sotto lo stesso identico nome, cioè chi sceglie il celeste si becca questo, chi sceglie il bianco si becca questo, chi sceglie il corda si becca quello lì, chi sceglie quello, quella qua ma che carino eh, per carità, come colore, si becca quello, oppure il grigio lilla si becca quest'altro. Fatevele il macro, volete la verità o volete essere menati per il naso, dalle aziende e da chi la sostiene, nonostante gli esempi. Allora, io qui non sto contestando eh, il diritto di esistere di ognuno di questi prodotti, assolutamente me ne guardo bene. Intanto sto contestando la gestione dei prodotti, perché ammesso eh, ammesso anche che tutti e questi cinque prodotti, uno, due, tre, quattro e cinque, possono essere composti da cento per cento lino, non possono essere, non li possono vendere sotto lo stesso nome senza niente che li differenzi e che permetta al cliente, che il cliente può essere chiunque, può essere, può essere un obbista, può essere un pacciughista, può essere uno stilista, un designer che vuole realizzare un progetto e promuoverlo. Deve dare delle informazioni precise e non si deve trovarne i guai, perché i clienti, di conseguenza, mettiamo il caso che un design, uno, una, decidano di scegliere, vedono questo prodotto e dicono, cento per cento lino, ne ha tutto l'aspetto, eh, ma sì, mi è venuto in mente che posso farci questo progetto, ha già maneggiato altro lino, questo gli interessa, le, gli interessa per le dimensioni, per la gamma di colori che ha intravisto, eh, gli interessa per il prezzo perché pensa che può accontentare oppure attirare altri clienti, i designer vendono progetti e quindi chi compra un progetto è un cliente, eh, ecco, e quindi diceva, è un prodotto che ha un prezzo piuttosto abbastanza concorrenziale, ok, lo scelgo per il mio progetto, peccato che, a chi gli capita questo? Ha un risultato, chi gli capita questo? Ce n'ha un altro, chi gli capita questo? Un'altra ancora e questo peggio mi sento, ma io non ce l'ho con lui, poverino, perché esiste, eh, ce l'ho perché ci vuole della faccia di tolla, dicono a Milano, a presentarlo come un cento per cento lino. Là dietro vedete del lino finissimo, che cos'è il lino finissimo? All'orenza è sottile, sarà un filato, un lino molto sottile, no, il lino finissimo è un lino finissimo, sta per eccelso, da una qualità particolarmente pregiata, perché? Poi ne parleremo. Vedete com'è? E guardate, ad esempio, questo. Guardate questo. Vedete quei luccichi? Vedete quei... Ah, ma il lino è luminoso, amore, sveglia, eh? Sveglia, sveglia, sveglissima. Guardiamo e guardiamo. Più luminoso del lino finissimo, lo vedete bianco, così avete un'idea un po' più chiara, il mio cellulare è quello che è, però fate il fermo immagine, fate, ingranditevele e osservate. Avete piacere di conoscere, di capire, di approfondire, ovvio va bene tutto, basta che ve lo regalino. Io non credo che le persone che hanno pagato i prodotti possano essere contente di essere... Cioè, si può progettare con un prodotto presentato in questa maniera? Non si può progettare. Se Tizia vede solo questo e non va a scandagliare le immagini, no, dice vabbè c'è una cartella colori, vedo lui, mi convince, mi piace, ha un aspetto che mi interessa, sì, mi ricorda il lino che ho già usato oppure non l'ho mai usato, mi ricorda un po' quello, non lo so, perché ovviamente era molto più sottile il lino utilizzato nei corredi, ma non è detto, qui ad esempio abbiamo, ve lo farò poi vedere, hanno lavorato la canapa, in queste zone molte, molte donne si sono fatte il corredo con la canapa che hanno coltivato e poi se la sono filata, molte se la sono anche tessuta, altre le hanno date da tessere. E sì, la differenza nella maestria, ecco, era come la, diciamo, la comparavano, da quanto riuscivano a filare sottile la canapa, che non è facile per niente, guardate, già la lana c'è da dire e da fare, se uno non l'ha mai fatto, a prenderlo, anche lì è una dote, ma santo cielo, celito lindo, va bene, vediamo, ha preso questo e poi dice voglio fare una maglia rigata, le piace questo, se ha scelto questo, le piace questo, ma sì, ma la faccio bianca e verde acqua, bianca, corda, verde acqua, faccio una maglia rigata, oppure voglio fare, la faccio a pezzi, la faccio, le maniche in un modo e i bordi in uno e poi la parte centrale del corpo, il davanti e il dietro, li realizzo con l'altro colore, ma ha guardato questo, quindi voi pensate che possa essere contenta una persona che ha pagato, che ha pensato, che ha progettato, oppure che ha preso una commissione, mi hanno commissionato un golf, ho fatto vedere quest'immagine, ho parlato delle belle qualità del lino e poi mi vedo arrivare questo e mi vedo arrivare quello, secondo voi, oppure ma guarda un po' perché non facciamo una bella maglia bianca e grigio lilla, con poi degli inserti, ce li mettiamo, corda, che ci piacciono, ecco, e quindi una maglia così, che poi ha degli inserti così, e poi si finisce ad utilizzare questo, che notate la somiglianza, voi non vi sentite presi in giro, magari non l'avete ordinati, ma non vi sareste sentiti presi in giro? Poi abbiamo i professionisti del web, ecco, io vi faccio rivedere questo, povero ninin, eh? Ok, quindi abbiamo cinque colori e cinque prodotti diversi che portano lo stesso identico nome, distribuiti contemporaneamente dallo stesso distributore. Ma magari se uno è nato prima, poi sono nati gli altri, quello è finito e hanno assortito con l'altro, bisogna dire l'altro, il nuovo, non gli altri, il nuovo, che poi è presentato in vari colori, non può esistere, a meno che non venga specificato che sotto quel nome ci possiamo trovare il minestrone dei minestroni. A chi tocca non si ingrugna, aguzzate bene la vista perché abbiamo radunato sotto lo stesso nome filati leggermente, sono generosa, eh, leggermente diversi e quindi si consiglia di osservare colore per colore, ma li dovete, dovrebbero anche descrivere queste differenze, perché non tutti sanno cogliere al volo, magari c'è chi ci vede poco, che proprio quando va a lavorare ci vede e lo sente che la cosa non è normale, che non quadra, ecco, non bisogna trasformarsi tutti in Sherlock Holmes, vero? Non si dovrebbe. Io ve li faccio rivedere, questo, poi vi vorrei anche chiedere che differenze notate, non ve le voglio dire adesso, che differenze notate fra questo, 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 e poi alcuni particolari purtroppo a distanza non si possono percepire, ma a toccarli e a guardarli vis-à-vis, è questo. Ricordo che questo è il 50% di quello che è arrivato a me, poi non lo so, che viene, fa parte di un altro 50% che dovrebbe essere abbinato a un 50-50, se già questo non è un 100%, se già questo non è un 100%, abbinato a un altro 50%, non può essere 50-50, ci siamo, la matematica, la matematica, signori, non va a simpatie, non gliene frega niente dei pacchi regalo, ma poi mi piace che si offendano, si inalberano, ma noi li difenderemo fino alla morte, bravi, bravi, abbattiamovi le mani. Ok, ma volete bene, eh, i vostri followers? Consigliateli a modo, mi raccomando, eh, fate vedere che siete proprio bravi personcini, eh, preparati, poi soprattutto lì ci sono i rimasugli del, del, non del, non le ho bruciate, le ho brustoliti sopra il piano della stufa. Ah, ma come reagisce questo? Domani mi farò aiutare con Camilla, speriamo che sia una bella giornata perché mi serve anche la luce naturale, e sul piano della stufa metteremo questo, noto 100% lino, insieme a quello, questi due, eh? Va bene? E poi vediamo come reagiscono, non posso far vedere prima uno o poi l'altro, bisogna, ma lo faremo anche, bisogna però che si compari la cosa, ecco, bisogna farlo contemporaneamente, quindi buttiamo sul medesimo tratto caldo della stufa, a differenza di pochi centimetri, tutti e due, prima uno o poi l'altro, poi lo rifacciamo, vi faccio vedere il fuoco nella stufa, magari spostiamo, mettiamo nei centimetri la superficie, sulla superficie dove abbiamo messo uno, mettiamo l'altro, insomma, io vi voglio aiutare, eh, va bene? A me mi fanno un po' incazzare queste cose, vi piace il francese? Ma intanto mi esce fuori, ok? Ci siamo? Ci siamo? Sono identici, giusto? È quello che succede, quando voi comprate da malabrigo e comprate la mescita, vi aspettate che cosa? Della bucle, del fiammato, che la prima la vedete in stoppino, poi vedete tanti bei capini ritorti insieme, un, due capi, un, due, tre, quattro, cinque, sei? Oh, che cosa? Ma cosa avete usato fino adesso? Vorrei capire io, eh? Non ce l'ho con i clienti che ovviamente si trovano anche spaesati a questo punto. Ecco, che altro c'è da dire? Non ci sono da fare i balletti, non ci sono da fare i caroselli, questo, quello che tutti possono vedere subito, non dopo del tempo, subito, nell'immediato, questo. La Cesira si è vista arrivare questo, la Maria questo, la Giuseppina questo, l'Antonio questo e Luigi questo qua. Fanno lo stesso progetto, secondo voi? Solo una questione di mano? C'è differenza fra questo? Ce l'ho con i designers, eh? Qua c'è differenza fra questo e questo, secondo voi, se li andate ad usare nel medesimo progetto? O, oh, ma è il colore, tua sorella, dimmi un po', abbi il coraggio di dire pubblicamente che questi due prodotti, se li usate nel medesimo progetto, cioè fate un dietro col bianco, perché va così, fate il dietro col bianco e davanti col corda. Ah, ma il ferri, la tensione, il colore, assolita di nuovo, per piacere, eh? Se vengono venduti insieme, devono dare lo stesso risultato. È vero che il colore a volte può incidere sulla mano, alcuni colori, ma è impercettibile quasi. Poi qua parliamo, non me lo dico io che differenza c'è, eh? Fra questo, 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 questo e questo. Questa è la prossima, va bene? Questo, invece, è un lino finissimo. Ah, ma è tutto buono, sì, sì, come no? Poi ve lo fa vedere. Questo è un lino finissimo, è un lino pregiato, è un lino bello. Ma allora, no, non è che si vogliono le cose belle, non è che l'azienda che ha prodotto questo non lo deve produrre perché non ci si può fare niente, non fa mica male alla salute, oppure, fateci un po' qualcosa per un bambino, voi, con un filato così, va bene per dei capi da esterno, se parliamo di bambini, eh? Poi gli adulti si possono mettere qualsiasi cosa, vista la lingerie che si usa, ecco. Cioè, che si mette il nylon anche da tutte le parti. Non lo so se questo, guardate, non lo so che cos'è questo prodotto. È interessante, non vi sto dicendo che non è interessante. E allora lo usiamo, cosa fai? Ne parli male? Io dico che non è lino 100%, ci siamo capite, no? Perché abbiamo a che fare con delle riottosità, ma soprattutto con dei limiti. E dopo un po' me scoccio, va bene? Io le sento le voci, sapete? Senti le voci, allora non stai bene. No, sto benissimo, non preoccupatevi, che sto più che bene, eh? Lo trovo offensivo, lo trovo vergognoso, lo trovo proprio da nascondere la testa e andare, 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 proprio lontano, eh? Lontano! E smetterli di fare questo mestiere, finché lo si affronta così. È una cosa orre, ma non ho mai visto delle cialtronaggini di questa levatura, mai, mai! In più di 50 anni che maneggio filati non mi era mai capitata un'avventura di questo genere. Mai, 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 eh? Mai, mai, nessuno se l'ha mai permesso, sono stata fortunata io, non lo so, ma non mi era mai successa una cialtronata di questo genere. Perché sono dei guai, perché se voi avete un cliente, no? Campate di questo mestiere, o vorreste pagarvi le bollette, visto come arrivano, vi ordinano una maglia, oh signora, ma il Purolino, guarda, ho delle amiche io che so, persone, prendo lì perché buon prezzo, e gli fate una maglia così. Magari quella c'ha una collezione di quello, quello, quella famiglia, di Purolino, ve la, ma ve la, ma ve la, ma ve la enuncia, e ha tutto, perché, eh, perché in se può, eh, andategli a dire che sono amiche vostre, o amici vostri, ve la enuncia, perché questo non è lino, ma, ma manco, non lo so se ce n'è una percentuale, ma non è un 100% lino, non è un prodotto innovativo, perché un lino innovativo, perché no, no, a biondi, e se fanno proprio delle figure, dico biondo perché è proprio mio intercalare, potreste essere anche rosci, come dicono a Roma. Quindi, oltre al fatto che vengono vendute per comodità, ma classoreta di nuovo, comodità, se sei scomodo, pazienza, chi ti ha detto di mettere i tacchi, ma, se hai poco di questo, poco di questo, poco di questo, e poco di questo, e quello men che meno, poraccio, cavoli tuoi, ma non si possono mettere sotto la stessa voce, senza avvisare il cliente che incappa in queste differenze. Lo vuoi fare? Devi differenziarli, perché chi prende tre colori ha diritto, se non è stato avvisato, perché è costume così, perché è così, non si può fare, ecco, ha diritto di ricevere lo stesso identico prodotto. Quindi, gli piace questo? Vuole questo bianco? Deve avere quello bianco, deve avere questo, c'è una gamma colori, proponete dei colori? Bene, devono essere lui? Hanno scelto lui? Quello. Allora, se scelgono questo, no, ma non si può dire che è lino se non lo è. Eh, ma lo è al 95%, perfetto, fai comparire quel 5% di qualsiasi cosa. Lo è al 90%, lo è al 60%, deve comparire quello che è. Non perché sei tin, 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 tin e scrivi tanti bei bigliettini, puoi dire qualunque cosa sulle tue etichette. Non importa se sei simpatica, se siete simpatici a tante persone che vi vogliono tanto bene, e i masochisti ci sono, eh, ci sono i masochisti, per carità, le persone che non hanno proprio idea di cosa voglia dire il rispetto per l'altro, eh. Poi ci sono gli improvvisati, che sono anche bravi, eh, per carità, e poi ci sono i professionisti. Un professionista ve lo fa mangiare il vostro prodotto, viene lì e ve lo fa mangiare. Perché? Perché gli avete rovinato delle opzioni, perché gli avete fatto un danno. Non so come bisogna dirle queste cose. Non c'è bisogno di fare i balletti, gli sketch, no, no. Ognuno è libero di vendere la qualità che vuole di qualsiasi cosa. Ti piace il pane di farina macinata a pietra che hai coltivato? Vendi quello. Hai la possibilità di avere della farina che lasciamo perdere? Ma fai quello che ti pare, poi saranno i tuoi clienti. Però non puoi dire che hai della farina macinata a pietra integrale, condizionata, che ne so, la cicoria, perché fa bene per l'intestino, se non lo è, non lo puoi fare. Vendi quello che hai, vendi quello che hai, fai le fatiche che devi fare, non puoi mettere tutto insieme e far tutto un minestrone, perché provochi dei danni, provochi dei danni. Perché chiunque, un piccolo artigiano, non è che si è obbligati a comprare solo presto, si può comprare anche in queste realtà e fare delle collezioni, un artista della fiber art. Ma ve li fanno mangiare veramente, eh? Cioè, ma veramente si va a rovinare il progetto lavoro delle persone. Certo, tutti hanno il diritto di lavorare, onestamente però. Eh, a bionda, è rimasto, è scritto lì. Eh, non si fa, non si può fare. Cosa sostenete? Che ci fate delle figure meschine? Soprattutto se andate a dire in giro che questo è lì, Oh, Belandi, meno male che te ne intendi, te sei una designer. Belin, ragazzi. Allora, guarda, proprio, tutti su Vogue. No, tutti a vogare, proprio, a far fatica e sudare, perché qualcosa non è quadrato nella crescita professionale qua, eh? Eh, e dai, per favore. Adesso, che avete visto anche il quinto che voleva ballare l'Aligalli, che è questo. Va bene. Ma come lo dici te? Sì, lo dico io. Ma lo potete dire anche voi, eh? Oppure fatevi aiutare. Andate da un perito tessile, non lo so, andate da una persona capace. Purtroppo si può improvvisare chiunque a vendere prodotti. Eh, sì, alimentari un po' però anche lì. Ecco, chiunque si può improvvisare venditore di filati. Diventa un professionista? Automaticamente? No. Diventa un venditore di roba che raccappa qua e là. Poi andiamo a parlare del moer. Bisogna fare un po' di matematica, signori, qua, eh? Non sono una cimissima, però vi posso aiutare. Cioè, avete mai fatti gli insiemi? Bene, faremo, faremo quello. Allora, veniamo qua. Veniamo qua, eh? Oh, il nostro amico, per modo di dire, Google. Specchietti per allodole. Significato? Azione, comportamento, atteggiamento che ha il fine di attirare, allettare e ingannare le persone ingenue. Ci siamo. Scrivere puro lino e poi dare tutt'altro, perché la parola lino, puro lino, lino 100%, ragazzi, è diverso che scrivere 60% cotone, 10% lino e 30% che ne so, venda di poliammide o poliestere, no? Suona in maniera diversa. Suona in maniera diversa scrivere, leggere, 80% moer e 20% viscosa rispetto a 80% moer e 20% nylon. ma magari fosse ma suonerebbe ancora diversamente un 50% moer oppure un 30% moer ventilana e il resto nylon, poliammide di tutto e di più. li guardereste con lo stesso occhio interessato poi guardando il prezzo, no? Tutta quella cosa lì rispetto a un kid silk o kid moer 80% moer e 20% nylon rispetto a mettiamo 50% 50% moer e 50% nylon oppure 20 nylon 30 poliammide quello che vi pare è la stessa cosa secondo voi attira nella stessa maniera attira nella stessa maniera scrivere 80% alpaca 20% viscosa rispetto a scrivere 60% lana 40% acrilico così io sto buttando delle percentuali così per darvi degli esempi no? Cosa sono gli specchietti per l'odole? sono quelli sono sono quelle cose che attirano che però poi bisogna anche mantenerle va bene come pippone della sera ho finito ora continuo scusate i ballonzoli ce l'ho in mano perché mi voglio avvicinare non ho l'attrezione che tiene fermo però poi voi stoppate quello dietro bianco e lino finissimo io ormai sapete che ho tanti prodotti per casa no? che vengono da un certo luogo li guardo tutti con compatimento dico parolacce ogni volta che dice no tanti dico parolacce e poi dico ma adesso a voi no? se mai dovessi anche solo regalare qualcosa cosa posso mai scrivere su un'etichetta ormai proprio sputtanato non mi fido di niente di niente ci può essere anche uno hanno fatto male i loro conti non si può fare non si può proprio fare non si può si può vendere un prodotto brutto si può vendere un prodotto con qualità modeste si può vendere si può vendere si si può vendere e si ha anche il diritto di venderlo ma non si può dire una cosa per un'altra attaccare una persona che vende filati perché vende dei prodotti mediocri o modesti non hai il merino del picchio pacchio non hai il lino delle fiandre fufu non hai la seta del giappone gunglu non hai e sembra più africano come il suono non hai vai da un'altra parte cosa mi viene a rompere le scatole perché mi devi portare per bocca se quello che ho è lì è quello è quello un atteggiamento secondo me sleale perché ma se io ti dico che ho il non più sultra che ho il meglio dar meglio deve essere se no a bello ma da dove viene e purtroppo ci dobbiamo stare attenti dobbiamo aiutarci ci dobbiamo sostenere dobbiamo aiutarci signori perché questo è un bruttandazzo su tutti i fronti ormai qua non si può fare non si può fare neanche se vi a voi piacciono le persone che vi prendono in giro a me no non mi piace che mi prenda in giro perché io ho fatto dei gran sacrifici dei gran sacrifici per dedicarmi con amore a questo tanti sacrifici ma tanti sacrifici che non mi sono comprata una maglia che non mi sono comprata le scarpe che non mi sono comprata le mutande che non ho fatto una gita che non ho fatto una vacanza perché ho preferito quelle poche sostanze che avevo in quel momento fare a conoscere dei filati a crescere le mie esperienze va bene ma voi pensate sapete che questa la dico in ultimo tanto ci saranno poche che arrivano alla fine e non è un non è un vanto è un'emozione quando mi hanno invitato ad andare al pitti per rappresentare artisticamente per essere neanche rappresentare ero un ospite un ospite come artista allo stand di lane cardate non pensate ai mercatini e le fiere abilmente tutto un altro mondo basta vederlo andate in rete cercate che cos'è il pitti filati e capite che in realtà è qualcosa che è solo per gli addetti ai lavori quindi chi viaggia per i padiglioni del pitti immagini filati ci sarà anche la magliaia del piripipi ma ci sono grosse aziende e sono queste fiere sono importantissime è un mercato di quello cioè è come la borsa valori c'è un ambiente che vi caccia fuori anche se avete il badge non c'entrate in certi ambienti anche al pitti immagini filati perché adesso non ve lo so spiegare qualcuno che poi sotto può aggiungere ecco ma solo addetti ai lavori vuol dire altri commercianti altri produttori chi? produttori di tessuti produttori di maglieria da tutto il mondo da tutto il mondo sono pochi gli eventi al mondo al mondo eh importanti come il pitti poi c'è Francoforte poi non mi ricordo se c'è anche in Giappone le fiere di settore queste sono altro che settimane della moda eh ecco quindi quando mi è stata data quell'opportunità quell'invito e non solo a disporre le mie cose le cose che avevano scelto e gli inediti che avevo creato appositamente sono stata invitata a partecipare fisicamente possibilmente col mio telaio e non è stato fatto veto di parlare con i clienti con i visitatori del padiglione dello stand con i clienti loro nessuno mi guardava alle spalle sì ogni tanto Chiara Bianchi mi portava una camomilla veniva a vedere se andava tutto bene come stavo stavo male avevo la febbre dall'emozione poi tra l'altro non avevo tosa non c'avevo niente avevo solo un febbrone da cavallo che mi ha spezzato le gambe una giornata ma ecco poi sono stata sono andata quello sapete cosa vuol dire a cosa ho pensato oh che pubblico che guarda le mie cose oh mi fa no io ho pensato alla fiducia alla responsabilità perché avrei potuto dire qualsiasi sfondone ai clienti ai possibili clienti cioè questi mettono una una cosa cioè secondo voi ma davvero io a quello ho pensato quello mi ha emozionata che un'azienda così importante non solo in Italia non solo per l'Italia perché è un'azienda che produce filati da generazioni e che filati parliamo di filati di grande qualità di fibre stranobili avermi chiesto di portare il telaio di neanche di stare lì di far quello che mi pareva col mio telaio lì c'era uno degli inediti che avevo già cominciato a casa non è che mi sono messa a montare un ordito lì ero già avanti e di cosa parlavo visto che utilizzavo in quel momento filati e lane cardate parlavo di quei filati ma non erano filati già pronti erano ancora tutti da follare perché comunque io stavo parlando con clienti che sapevano che cos'è un filato pronto per la produzione e non post follature lavaggi quindi parlavo con degli addetti ai lavori e quindi quello per me è stato importante me ne frega assai dei follower non nel senso che non mi io ho grande rispetto delle persone che mi seguono e sono imbestialita proprio per quello perché attraverso me hanno ingannato anche altre persone degli altri non mi interessa ognuno faccia i conti con la propria coscienza con la propria preparazione con i propri valori ma io questa non la posso mica lasciare passare ma proprio per niente va bene così ci troviamo tra un po' grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti